Archivio storico universale delle belle arti del Centro Accademico Mesondarte di Padova L'incantamento del reale nei dipinti del maestro Paolo Fontana Nella veduta marina, l'orizzonte dei colori accesi, è davanti al nostro sguardo Cogliendo la bellezza immediata del reale che risale la china di una fantasia sognante Si rimane attoniti nella visione che si fa unirica Aprendosi alla romantica trasfigurazione del reale con una viva compartecipazione ai fenomeni universali Ciò che risalta è proprio il passaggio verso una dimensione immaginaria Proponendo un al di là della rappresentazione fenomenica del paesaggio In spontanea lirica tessitura di sentimenti Mentre la spazialità sfuma verso l'infinito Fra trapassi di luce, nelle finissime velature dell'aria Anche le raffigurazioni femminili rivelano il fascino di una bellezza spirituale Velata da riferimenti astratti e come un sogno archetipo simboleggia un arcano da svelare Si tratta di una splendida pittura dal richiamo espressionista con accentuazioni astratte Ed un inconfondibile timbro poetico che si svela nella stesura del colore Così raffinato e trasparente dove le visioni appaiono immerse nell'incantamento di luce Creando un'atmosfera naturalistica mentre sconfina nella trasfigurazione romantica del sogno Filtrata dalla sensibilità dell'autore ed intimamente connaturata la preziosa qualità del cromatismo Che si fa poesia per un nuovo linguaggio d'arte nella storia dell'arte italiana ed internazionale Così raffinato e piollare Così raffinato e piollare Un'atmosfera naturalistica di Piollare